Eccoci qui dopo la meravigliosa partita della Roma, meravigliosa direi, molto bella, bellissima, gioco spumeggiante, proprio calcio champagne allo stato puro, ma andate tutti a fanculo cazzo, per carità e non ci inventiamo la scusa degli arbitri perché se si forte, vinci lo stesso diavolo maiale, vinci lo stesso, stanno sarà una stagione anonima, porca puttana, porca. Non si può le perdere, 2-0 rischiando per alte tre volte perché se non c'è la Ozzano oggi piavi almeno altri tre gol, mamma mia ragazzi, non c'ho più parole, questa Roma è una delusione totale, 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 mamma mia, te passa la voglia di guardarli, te passa la voglia di sentirli più che altro, mamma mia, non ho visto la partita, l'ho seguita su Roma Radio, che da meglio si chiudeva e fa una passeggiata onestamente, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, per carità, che vuoi analizzare, che vuoi analizzare, non c'è il cazzo di analizzare, mentre in queste partite non c'è un gioco, non c'è un cazzo di niente, mamma mia. Gli arbitraff hanno fatto schifo da amore parti secondo me, da come ho sentito su Roma Radio. Però, con la spalla, tocca vincere con la spalla, cocchimia, se no du cazzo gimo, ma du cazzo gimo, tanto se sa che la stagione della Roma è sempre la stessa, è sempre la stessa, sconfitte contro chiunque, non puoi essere mai sicuramente su Facebook prima della partita, andiamo a sbranarli, andiamo a vincere, vinceremo, sì, sì, io non so mai sicuro di niente, se vincemo sono contento, ma se come oggi, io non so mai sicuro di, oggi vincemo 5 a 0, Manco con l'ultima in classifica, vincemo 5 a 0, oh dio, forse sì, col furosinone 4 a 0, mamma mia ragazzi, questo anno sarà una stagione proprio anonima, No, poiatemi per scemo, perché tanto quando si è perdito è sempre così, ce n'è niente da fare, purtroppo con la Roma è così, deluso proprio al 100%, guarda, quando c'è da fare il salto di qualità non c'è mai il verso di vince, mai, porca troia, migliore in campo oggi è Olsen, che ha fatto almeno 3 miracoli, almeno a quanto ho sentito oggi sono un malario, porca troia, Ma la cosa non è, non è consistente, non è consistente, perché con una Roma così dove voliamoci, dove voliamoci, penso che in avvio così l'ho mai visto, manco in tale peggio stagione della Roma, mamma mia, ce l'avevamo abituati troppo bene evidentemente, pessimi, 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 porca troia, Ma poi a ricchi si avventeranno dell'albitro, ma se si forti l'albitro, manco lo consideri, perché segni cosa che non fai, porca troia, Loro con il minimo sforzo hanno portato a casa una vittoria, che per loro sarà quasi un miracolo, Tra l'altro mi ricordo fino a 3-4 stagioni fa giocando con noi altri del Gubbio, quindi hanno fatto davvero un bel saltore, Quindi saranno più che contenti, contenti per loro, e complimenti da loro, perché loro hanno fatto loro, dopo avevi, a parte il fatto dell'albitro, Dopo lo so se c'era o non c'era, non lo so, quanto dicono non c'era sulla radio, ma mi tocca guardarlo meglio, Tanto se insegni, c'è poco da dire, può essere che facevi il gol sul rigore e perde uguale, adesso la contoprova non ce la vorrei mai, Fatto sta che però Arcademo non è l'anonimato, quindi perdi l'interesse in tutta la Serie A, per me quando perde la Roma possono vincere chiunque, Tanto ormai non c'è il verso di fancazzo, ma sono tutti coglioni, onestamente, che stagione da merda mi verrebbe da dire, Perché onestamente è una stagione così brutta, forse da, come, ormai questo l'avrò detto mille volte, Da Luis Enrique, Zeman, stagione dopo, siamo pessimi, siamo pessimi, 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 Vedete quello che dovete fare, perché qui non mi piace quest'anno, sta roba, Già l'anno scorso, stoppicavamo parecchio in casa, il problema è che permane, a quanto vedo, Vediamo che cazzo docca fare, comunque non c'è mai un equilibrio, Quando va bene il Gubbio, va bene la Roma, quando va bene la Roma, va bene il Gubbio, Mi sembra ovvio, davvero, fondamenta domani per il Gubbio, Gubbio, su, ti rolla, speriamo almeno che torino di vincere, di fare un miracolo, Anche perché sono davvero forti loro, quindi vediamo di contenere la striscia positiva, E niente, come al sempre, sempre forza Roma, ma, ti fanno passare la voglia proprio.